è una realtà bella viva ricca di nuovi stimoli e si incontrano anche tante persone e c'è modo di poter scambiare idee ho intercettato questa grande famiglia è stata una vera scoperta è stato bello trovare persone e condividere la tua stessa realtà le tue stesse problematiche le stesse difficoltà ma anche la bellezza e la libertà di essere freelance freelance camp assolutamente è stimolante perché è fatto di persone che cercano sempre uno sguardo oltre al di là è una rete che ha senso nella misura in cui fa crescere la rete di tutti e coinvolge persone esperienze storie da tutta italia e non solo